Qua siamo a una riproduzione, vediamo com'è. Il controllo alla rovescia è finito. Siamo sopra la città! Guardate che bello, siamo sopra la città! Oh mamma! È inquietante, sopra i vertigini! Oh mamma! Ti prego non dirmi che è vero! Ma io mi metto qua. Guardate che bello, non devi andare sopra, eh no! Guardate! Ci stiamo alzando, oh mamma! Io sopra i vertigini! Dove stiamo andando? Qua c'è una città intera! Sono sopra la città! Sono sopra la città! Uh guardate! Guardate! Stiamo salendo! Uh c'è il cielo qua intorno! Guardate c'è l'Italia! Il mondo! Dove stiamo? Perché è tutto bianco? No, non è finito! Guardate siamo nell'universo! Guardate! Oh che bello! Non so cosa c'entri in un museo degli animali! Sì ma perché c'entri in un museo degli animali? Luna! Guardate! Qua c'è Giove! Uh là c'è Apollo! Qua c'è Saturno! Guardate! 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 Guarda che bello! Siamo nelle stelle! Sembra così di esserci veramente! Oh! Una via Lattea! Guardate! Uh qua c'è la rete delle galassie! C'è la rete delle galassie! È una nebulosa! È una nebulosa! E chi? Il buco nero! Due buchi neri! Guardate! Stanno rotiando! Stanno per formare... Si stanno unendo! Oh mamma dove stiamo finendo? Eh non lo so! Credo che siamo fuori da... Oh guardate! Siamo praticamente... Questo è il mondo! Allora qua dovremmo essere fuori dall'universo osservato! Ah stiamo riscendendo! Uh evviva! Siamo nel deserto! Evviva! Lei è la maestra Deborah! Siamo partiti in volo! Guardate! Mio fratello è partito in volo! Ciao Edo! Vedete stiamo facendo un volo! Però veramente questi cagliolini li vedete? Sono veramente comodi! Signor Hostess ci devi portare degli snack! Signor Hostess ci potrebbe esportare degli snack! Signor ingegnere che ha inventato questo museo! Perché c'è tutta questa roba in un museo di animali? Signor scienziato! Signor... Signor... Perché ha messo tutta questa roba in un museo di animali? Sono cronista! Eh ma perché ha messo tutta questa roba in un museo di animali? Signor ingegnere di museo! Non sapevamo dove metterla! Guardate! Questa dovrebbe essere una particella! Non ci siedo sopra! Che morbida! Che moro di sera sono! C'è un bella! Edo riprendimi! Quella c'è un bella! No io vorrei questo! È troppo bello! Sì è troppo simpatico! Signore e signori sono il signor canguro! E sono raro a trovare! Mi trovate in Australia! Qua lo squallo elefante si vede un po' male perché è tutto buio! Guarda cerco di mettere a fuoco! Non si può! Aspetta! Vedete qua c'è lo squallo elefante! Gigante! Guardate! Peccato che si veda male! Aspettate! Ecco ora riprende bene! Era messo male a fuoco! Vedete? Devo muovermi un po' lentamente perché altrimenti la mette fuori fuoco! Ah c'è la star! Lo squallo bianco! Che è quello più conosciuto da tutti! Vedete? Dovrebbe essere un po' più grasso! Qua ci sono gli uccelli marini! Guardate qua c'è l'aquila! L'aquila reale! Che ho chiuso un povero coniglietto! Guardate qua ci sono le avocette!